Buongiorno a Notaio Giorgia Vanzini. Buongiorno Susanna, buongiorno amici a casa. Oggi parliamo della riforma del processo civile. Ecco, quali sono le novità e punto siamo? È un momento molto importante nella nostra storia. Si sta realizzando un pacchetto di riforma del sistema giustizia che è collegato all'erogazione dei fondi europei per il PNRR e cioè in conseguenza della pandemia l'Europa concederà questi fondi per il progetto nazionale di ripresa e resilienza ma l'Italia dovrà realizzare alcune riforme molto importanti. Una è quella della giustizia. Perché oggi è importante? Perché lo scorso 21 settembre è stato approvato in Senato il disegno di legge delega ed è stata posta la fiducia al governo che è stata confermata con 201 voti a favore e 30 voti contrari su questo progetto di riforma del processo civile. Si tratta di 23 articoli che prevedono una delega al governo per l'efficienza del processo civile per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone, della famiglia e in materia di esecuzione forzata. Sono tutti argomenti importantissimi che riguardano la vita di tutti noi. Lavorando e vivendo può capitare di incorrere in un processo civile sia come attori che come convenuti. E quindi questo progetto di riforma, questa legge delega che dovrà poi prevedere una fase di decreti attuativi si inserisce in un contesto di riduzione dei tempi dei processi. Consideriamo che i procedimenti civili in Italia durano di media 7,3 anni quindi 2.656 giorni. Si punta a ridurre questa durata del 40%, non immediatamente ma con il decorso del tempo si punta ad arrivare ad una media di 1.593 giorni. Come si realizza questa riforma? È previsto il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie cioè tutte quelle modalità per estrapolare dai tribunali i processi e quindi per le risoluzioni fuori dal tribunale quindi per evitare anche gli arretrati, l'accumulo di procedimenti. Inoltre è previsto un processo civile semplificato anche nelle modalità di appello e di ricorso in cassazione con dei filtri di ammissibilità sono previste novità in materia di controversie sul lavoro e di processo esecutivo è previsto anche una nuova organizzazione dei nostri tribunali con l'ufficio del processo che è già stato previsto da un decreto del 2014, il 90 del 2014 ma verranno riorganizzati questi uffici del processo vengono potenziate inoltre le modalità digitali che abbiamo approfondito durante la pandemia e quindi le notificazioni nei processi civili verranno eseguite sostanzialmente solo via PEC posta elettronica certificata e una cosa importantissima e nuova che ci riguarda tutti e si ricollega anche agli argomenti che tratterete più tardi riguarda le persone, i minorenni e le famiglie è stato introdotto cioè un rito unico e un tribunale ad hoc per questi procedimenti sia distrettuale che circondariale distrettuale riguarda la Corte d'Appello, la Regione pensiamo all'Emilia-Romagna, quindi a Bologna circondariale riguarda invece i singoli tribunali nelle province Ecco Notaio, parlava degli strumenti alternativi i riti alternativi non sono una novità nel nostro paese ma con questa riforma cosa cambia e come è previsto il loro funzionamento? I riti alternativi, questi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie li conosciamo già, sono la mediazione, la negoziazione assistita e l'arbitrato sono tutte soluzioni che vengono potenziate con l'introduzione di incentivi fiscali e cioè vengono a costare meno, ancora meno di quanto non costino oggi è previsto quindi un ampliamento dell'esenzione dell'imposta di registro per la mediazione sono introdotti nuovi crediti di imposta cioè questa modalità di poter recuperare quanto si spende per le indennità e per le spese collegate e a vantaggio quindi di chi utilizza questi strumenti è previsto il patrocinio a spese dello Stato anche nella mediazione sono state introdotte poi nuove materie obbligatorie per la mediazione per esempio i contratti in tema di controversie sui contratti di associazione in partecipazione, di consorzi, di franchising contratti d'opera e di rete, di somministrazione in tema di società di persone e inoltre viene potenziata anche qui la formazione dei mediatori anche i Notai hanno sempre partecipato attivamente alla mediazione già dal 2010 quando è stata introdotta nel nostro sistema e ci siamo formati anche noi come mediatori sono poi potenziate le modalità telematiche e i collegamenti da remoto abbiamo visto durante la pandemia che è possibile continuare ad operare anche con modalità appunto a distanza, da remoto oppure per iscritto poi per quanto riguarda la negoziazione assistita sono state introdotte anche qui nuove materie quindi in materia di lavoro, di affido dei minori nati fuori dal matrimonio e di attribuzione dell'assegno divorzile quando è previsto una tantum e cioè in tutti quei settori in cui risulta più utile, più rapido, più semplice risolvere la controversia senza andare ad intasare i nostri tribunali civili Notaio, quindi come questa riforma incide sui vari gradi di giudizio a partire dal primo ma poi anche negli altri gradi? Infatti è stata introdotta una grande semplificazione del processo di cognizione in sede monocratica, collegiale e davanti al giudice di pace Quali sono le misure previste da questa delega al governo? Innanzitutto nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta cioè abbiamo due parti, l'attore e il convenuto l'attore è colui che inizia il procedimento Ecco che i fatti e gli elementi di diritto dovranno già essere specificati in modo chiaro e specifico come i mezzi di prova e i documenti affinché il giudice già nelle prime udienze possa essere messo in grado di decidere Vengono anche accorciati i tempi di presentazione delle pretese e vengono eliminate alcune udienze che sono considerate inutili quindi si saltano dei passaggi che non hanno un risvolto sostanziale come per esempio l'udienza di precisazione delle conclusioni quindi viene fortemente semplificato il processo di cognizione di primo grado Senta Notaio, tra poco parliamo di famiglie, di donne vari aspetti che riguardano la condizione femminile del nostro paese e anche di questo si parla nella riforma, lo accennava prima E' un aspetto molto importante della riforma del processo civile che riguarda proprio lo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie tutte le controversie che oggi vengono devolute al tribunale ordinario al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare verranno riunite in un unico rito unificato con un tribunale ad hoc il tribunale della famiglia naturalmente il giudice e il tribunale dei minorenni non verranno soppressi gli altri organi non verranno soppressi Ci sono poi degli argomenti tipo le dichiarazioni di adottabilità e i procedimenti di adozione dei minorenni che non potranno essere devolute a questo tribunale della famiglia in rito unificato Sono aspetti molto importanti che consentiranno quindi di affrontare meglio tutte queste questioni e prevista anche un maggior dialogo e collegamento fra il tribunale civile e il tribunale penale Ricordiamo questo argomento purtroppo che è un flagello della nostra società la violenza di genere e la violenza domestica viene considerata quindi violenza contro i minori anche la violenza di genere perché la violenza contro la madre normalmente è l'uomo che esercita violenza contro la donna va a danno anche dei minori quindi verranno potenziati gli strumenti anche preventivi per poter intervenire in questi casi è previsto un mediatore familiare figura che dovrà essere adeguatamente formata proprio perché si cerca di introdurre nelle famiglie un terzo imparziale che possa risolvere questi conflitti anche nelle separazioni nei procedimenti di separazione fra coniugi è previsto un meccanismo di semplificazione e velocizzazione si potrà chiedere immediatamente già in fase di separazione anche la domanda di scioglimento cioè di divorzio inoltre si è fatto un passo avanti anche per un aspetto che riguarda la sindrome d'alienazione parentale che cos'è? spesso veniva utilizzata nei processi nei casi in cui un minore si rifiutasse di vedere l'altro genitore ecco che si dava per esempio faccio il caso più tipico poi ci sono varie sfaccettature la colpa alla donna se il bambino non voleva andare dal padre magari dal padre violento ed ecco che la donna veniva tacciata di alienazione parentale cioè di suscitare influenzare suscitare questo odio delle minorenne verso l'altro genitore normalmente il padre ecco che allora si dice esplicitamente si afferma in questo disegno di legge che il giudice dovrà attenersi solo alle rilevazioni scientifiche ai dati scientifici perché gli studi hanno dimostrato che non esiste questa sindrome d'alienazione parentale che nei casi di violenza la situazione è molto più complessa quindi il giudice dovrà dialogare con entrambi i genitori ma nei casi di violenza ciò che deve prevalere in assoluto è la tutela e l'interesse del mondo quindi notario visto che ne parliamo tra poco rispetto ai temi che riguardano le donne quindi un'attenzione particolare anche sui temi riguardano il contrasto alla violenza sulle donne assolutamente sì ricordiamo sempre che questa materia stiamo parlando del processo civile perché appena è stato approvato il disegno di legge si ricollega anche alla cosiddetta legge sul codice rosso quella che è stata approvata nel 2019 il 69 del 2019 entrata in vigore il 9 agosto 2020 è una legge importantissima che ha introdotto nuove figure di reato per tutelare le donne per prevenire anche la violenza estrema e ha anche velocizzato l'iter processuale dando un nuovo sprint all'inizio di questi procedimenti notario prima di salutarla le chiedo se può dare una veloce risposta a Marina che si scusa di essere fuori tema ma le vuole chiedere se oggi c'è la possibilità di sanare un appartamento e come fare sì certo assolutamente sanare dal punto di vista urbanistico immagino per sanare la situazione urbanistica di un appartamento se ci sono deformità rilevanti che ne vanno a inficiare la commerciabilità cioè la possibilità di vendere questo appartamento ecco che si deve presentare un provvedimento una richiesta al comune quindi una cila, una scia una richiesta di sanatoria occorre pagare le eventuali sanzioni previste nel caso specifico occorre eventualmente eseguire le opere richieste dal comune dopodiché una volta presentata questa domanda di sanatoria e pagate le cosiddette oblazioni l'immobile può diventare commerciabile e un finito liter l'immobile risulta completamente sanato dal punto di vista urbanistico è una situazione molto comune grazie Notaio Manzini per essere stata con noi grazie a voi, buona giornata